andiamo beh non c'è più neanche l'entrata vai vai c'è se va a quarta così se va a quarta così vai 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 ce l'ha quarta così ma va non ce l'hai detto vai senti via da lì senti via vai vai no vai giù se ti accaddi 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 sicuro che la vuoi fare se ti accaddi se ti accaddi asistente sì se ti accaddi se ti accaddi Grazie a tutti. Tutti è basso, è barboso, è tutta a porta, no? Sottolinea, hai visto o me come andavo su? Questo è un esempio di solito, vai. E poi vai piano, non pica, non pica giù, così è? Grazie a te devi vedere da dietro, hai fatto una scattonata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.